I conti li ha fatti bene. Se entro 24 ore ti costituisci, in galera non ci vai, gli hanno detto. E così ieri, alle 17, si è presentato al comando provinciale dei carabinieri di via Cornarotta a Treviso, accompagnato da un legale. Si è scusato, ha detto qualcosa. Ma niente di particolare, ovviamente è dispiaciuto perché è sempre un fatto abbastanza che segna, insomma. 17 anni, di etnia Rom, ovviamente senza patente, ma alla guida di una Honda Jazz, il giorno prima aveva investito, uccidendolo, un benzinaio di 57 anni. Il tutto in una delle vie di Borgata-Finocchio, alle porte di Roma. Dopo l'investimento, il giovane è scappato via senza soccorrere l'investito, che è morto sull'asfalto. Si sarebbe nascosto in uno dei campi nomadi della zona, fino a quando, sentendosi braccato dalle forze dell'ordine, ha preso un treno e ha deciso di costituirsi dove risulta residente, ovvero a Treviso. E nonostante l'omicidio, l'omissione di soccorso, la fuga, l'età sbagliata per guidare un'auto e la totale mancanza della patente, ora è libero cittadino. Le norme che sono state applicate sono quelle previste dal codice della strada e quindi le conseguenze sono quelle che poi già voi avete conosciuto. L'ennesimo caso di stortura di una legge, il cui cambiamento è in discussione da tempo in Parlamento. Certo che la somma di infrazioni compiute aumentano l'insofferenza e le polemiche dei cittadini per la libertà mantenuta dall'omicida. Ci sono dei reatti che devono essere puniti in modo più serio, ci sono alcuni omicidi stradali in cui effettivamente sono dei reatti molto 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 gravi e su questo è importante che ci sia una stretta da parte del legislatore e una conseguente certezza della pena. Ora tutti guardano ai tempi della giustizia e alle decisioni del tribunale perché un fatto come questo non resta impunito. È la vergogna innanzitutto delle leggi italiane. Poi il guidatore deve essere cosciente che ha in mano un'arma, che è un'arma che può uccidere, come in questo caso. E quindi io chiedo alla magistratura di punire esemplarmente questi personaggi.